Un profondo vortice depressionario centrato sulle isole britanniche mantiene attivo un intenso flusso di correnti umide occidentali sull'Italia. In Toscana, martedì 6 ottobre, cielo nuvoloso con addensamenti più compatti sulle zone settentrionali e locali schiarite in maremma. Precipitazioni a carattere sparso e generalmente di debole intensità saranno possibili inizialmente sui rilievi nord-occidentali e successivamente nel pomeriggio sera anche sulle rimanenti zone settentrionali. Venti moderati di libeccio con rinforzi sul litorale settentrionale, mari molto mossi o localmente agitati i settori settentrionali mossi gli altri mari. Temperature minime in calo sulle zone interne, massime stazionarie, sul territorio provinciale nuvolosità variabile, da poco nuvoloso accoperto con pioggia alternate a schiarite, più probabili sulle zone montane. A Lucca e nella piana temperatura minima 11, massima 18 gradi. A Castelnove zone montane minima 11, massima 14. A Viareggio e sul litorale minima 15, massima 19 gradi.